Allora Omi, cosa è successo? Scusa, sono arrivato ora, ho visto qualcosa nell'equipe precedente. Praticamente cosa è successo? È successo che il motivo della reception dell'hotel non ha capito questa cosa, come ovviamente è normale che sia, e hanno iniziato a chiamare l'hotel tutti, tutti, se è mega, hiper, incazzato, va di brutto, e praticamente ci hanno cacciato. Siamo stati 40 minuti per strada in giro a cercare un bancoman, un posto dove andare, così ho trovato il bancoman, ho preso i soldi, e sono andati a un altro hotel, che tra l'altro gli ho detto tutta questa faccenda, e mi hanno tranquillizzato e sono stati mega ipergentili. Ma la volete che la facciamo a sta sleeping stream? 48 ore di fila deve essere. È vero, questo è vero, per cui ce la faremo. è vero, è vero, per cui ce la faremo. Si crede? Ha detto, che c'era la stanzione di DJ family prima del giusto. Ma come mi dite come sono in chat? Dove mi like? Come che sono? Stai a sapere? Andre Andre sono hai 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 oh 啊 i giusto, giusto, giusto no, non c'è meglio di un cubo si è bella c'è giusto di me e il suo nome è giusto e il suo nome è giusto e il suo nome è giusto si è giusto no, no, no no, no no, no no, no Mamma! 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 Devo andare, devo andare, io non posso più aspettare Devo andare, devo andare, io non riesco a soffortare Devo andare, devo andare, io non posso più aspettare Devo andare, devo andare, io non riesco a sopportare Devo andare, devo andare, io non posso più aspettare Devo andare, devo andare, io non riesco a sopportare Compattenti di terra, di mare e dell'aria, 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 di mare e dell'aria,